Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Presidente della Repubblica del Senegal, Maki Sal, e nel corso dei colloqui sono state rilevate le cordiali relazioni esistenti tra la Santa Sede e il Senegal, sottolineando tra l'altro l'importante contributo che la Chiesa offre nei settori dell'educazione e della sanità, oltre al generoso e apprezzato impegno a favore della pace e della riconciliazione nazionale. Infine, non è mancato uno scambio di vedute su alcuni temi di interesse internazionale, con particolare riferimento alle attuali situazioni di crisi nella Regione. Il Presidente del Senegal ha poi incontrato il Segretario di Stato, Caldinale Pietro Parolin, accompagnato dal Segretario per i Rapporti con gli Stati, l'Arcivesco Dominic Mamberti.